Un calendario ricco di eventi, quello natalizio anche di Vezzano Ligure, in particolare un evento, una pericena organizzato dal Comitato di Quartiere di Prati Sarciara. Esatto, sì, quest'anno per noi non è una cosa nuova perché tutti gli anni come Comitato di Quartiere Prati Sarciara facciamo un brindisi per augurare il Buon Natale al quartiere. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa, abbiamo voluto invitare, abbiamo chiesto ad alcune delle eccellenze del nostro territorio se volevano partecipare con delle esposizioni delle loro opere, primi tra tutti il maestro Luciano Viani, per poter far conoscere ancora di più e a tutti le vere eccellenze del nostro territorio, che ne abbiamo tante, queste sono solo alcune, ma noi ne abbiamo, Vezzano è ricco di eccellenze e magari non sono neanche tanto conosciute. Ecco quindi un evento di arte e cultura, ma chi volesse partecipare, ricordiamo dove e quando? Certo, giovedì 13 dicembre dalle ore 20 in via Borrozzo 21 nel quartiere di Prati Sarciara. Tra gli eventi di Vezzano Ligure, anche da sabato prossimo, il presepe vivente è organizzato da un gruppo di volontari, perché? Sì, ci siamo uniti a Vezzano per riuscire a mettere insieme tutte le forze e le competenze che erano presenti sul territorio e dare vita al presepe di Vezzano sotto la torre. Vi aspettiamo sabato nel pomeriggio e domenica con le scene del presepe e la natività sotto la torre pentagonale, simbolo del borgo di Vezzano Basso. Un evento che già da due anni viene realizzato a Vezzano e ha il patrocinio anche della Proloco. Per il secondo anno consecutivo patrocineremo questo evento e abbiamo invitato questi ragazzi sia nella parte amministrativa che compete alla Proloco, sia nella parte operativa allestire cantine e le location che poi daranno vita alle scene viventi. Vogliamo ringraziare soprattutto anche i cittadini vezzanesi che ci hanno consentito di creare queste location nelle loro cantine. Sabato da che ora sarà visibile il presepe? E' sabato dalle 15.15.30. Inizieremo con l'apertura del presepe vivente, una compagnia teatrale che darà vita a tre scene per giorno. Avremo banchi gastronomici con diverse varietà di gastronomie. Grazie a tutti.